su questa dura e pesante terra, origine umana, attraverso rio spada, a cura di VB, guida. L'uomo stesso, essere intelligente e ragionante, chi è? A chi o a che cosa? È dovuta la sua nascita su questa dura e pesante terra. La sua vita, vissuta con gioie, dolori e difficoltà, a cosa sarà servita quando sopravverrà la morte. La morte stessa, che significato ha? Sarà la fine di tutto oppure soltanto una trasformazione? Se con la morte tutto finisce, a che scopo vivere tanta sofferenza e tanta fatica? Per rispondere a tutte queste domande e per compenetrare tutti questi misteri. È necessario che ognuno faccia posto nel proprio pensiero alla verità della grande mente, che ha presieduto, presiede e presiederà, alla vita perfetta e all'ordine della meravigliosa realtà del cosmo e della reincarnazione dell'anima, che è alla base della vita e dell'evoluzione. In questo modo l'uomo riuscirà ad accettare con più serenità gli ostacoli, i dolori e le tribolazioni che la vita pone lungo il suo cammino e a capire che nulla è dovuto al caso, ma piuttosto che tutti gli effetti provengono da una causa.